Spero che questo nostro messaggio musicale scherzoso possa unirci ancora più di prima facendovi trascorrere qualche istante di spensieratezza. Anche se per soli o pochi minuti, spero che sia veramente gradita questa cosa qui e ci fa sentire uniti sempre di più. Si può dare di più perché dentro di noi si può dare di più. La musica che unisce, porta serenità e rallegra. Un messaggio di speranza e spensieratezza, quello lanciato dai giocatori del Pescara in un video che da un paio di giorni circola sui social. L'idea è nata dall'agente Dino Zampacorta, che ha saputo coinvolgere i tesserati del club biancazzurro e una punta di diamante come il maestro Piero Mazzocchetti. Si può dare di più del trio Tozzi, Morandi, Ruggeri e la canzone intonata. Si può dare di più donando. Si può dare di più stando a casa per rallentare la corsa del virus e avvicinarsi a una lenta ripresa delle nostre vite. Tanti i modi di interpretare il testo, lasciando spazio alle emozioni e ai sorrisi. Ragazzi, teniamo duro, eh! Una cosa sola ragazzi, restiate in casa. Restiamo in casa, non restate in casa, restiamo in casa. Per me è difficilissimo. Giro l'immondo, giro l'Italia, pensate come soffro, ma sto in casa. Grazie.